Una tempesta magnetica proveniente dal Sole, è in arrivo sulla Terra, dopo che la stella è tornata in una fase di attività intensa in questi ultimi giorni. Una delle tre macchie solari che sono comparse in questi ultimi giorni ha creato una violenta eruzione, che non avrebbe colpito direttamente la Terra, ma stando agli esperti del Sonar Dynamics Observatory della NASA, uno sciame di particelle liberato dall'esplosione si sta dirigendo verso la Terra e nei prossimi giorni potrebbe provocare danni a satelliti e problemi alle telecomunicazioni. Tale macchia solare che ha originato questa potente eruzione, è stata indicata dagli esperti con il numero 1263 e la sua eruzione invece è stata classificata con la classe X, che descrive i fenomeni più rischiosi per satelliti e comunicazioni.